Lavoro e sociale, alla luce degli ultimi dati statistici, sono le priorità, secondo i sindacati, che il Governo regionale deve mettere subito in agenda. È la questione sociale a preoccupare i sindacati, che hanno inteso richiamare l'attenzione del Presidente della Giunta regionale, Dottanto Toma, e dello stesso Consiglio regionale sulla necessità di accorciare i tempi nella predisposizione dei provvedimenti in materia. I dati statistici di questi ultimi giorni fanno segnare una crescita dell'indice di povertà e quindi fanno riflettere, così come il dato di oggi del rapporto delle regioni europee, che vede appunto le regioni Molise e Calabria tra le più problematiche per i giovani e il lavoro. Un'altra emergenza, dunque fotografata dal rapporto europeo, è che si pone come un macigno dinanzi alla politica regionale, anche perché di tempo, come hanno sottolineato gli stessi sindacati, non ce n'è più. Da qui la necessità di inquadrare in un piano programmatico organico i temi del lavoro e del sociale, per poter affrontare attraverso atti e iniziative le emergenze sul territorio. L'attenzione dei sindacati è rivolta anche sul Consiglio regionale, che se da pur poco insediato si, deve avviare da subito le necessarie azioni programmatiche per mettere mano a situazioni complesse, che proprio per la loro dimensione e problematicità hanno la necessità di trovare risposte e soprattutto soluzioni. I dati statistici degli ultimi giorni, purtroppo, confermano un trend assai negativo, da qui l'invito da parte sindacale a fare in fretta e adottare tutte quelle iniziative per affrontare seriamente i problemi, soprattutto del lavoro e del sociale.